Le dichiarazioni del presidente della regione Veneto Zaia, che rispondendo alle tesi dell'economista Gianfranco Viesti ha auspicato che ad ogni regione del nord ne venga affidata in tutoraggio una del sud, sono pura demagogia. Lo sostiene il consigliere dell'IDV, Antonio Outilio. Se nel paese le cose vanno male, è facile prendersela con il sud e le classi dirigenti meridionali, oltre che con le popolazioni locali, aggiunge l'esponente politico, per il quale è tempo di rispondere alla provocazione leghista con progetti che rimettono realmente il mezzogiorno nell'agenda del governo Letta. Dal governo nazionale, conclude Outilio, ci aspettiamo ben altre misure di quelle contenute nel cosiddetto decreto legge del fare, che in verità per il sud non fa molto ed è ancora deludente specie per innescare strumenti, occasioni ed opportunità di nuova occupazione giovanile e femminile.